In un tempo di troppe parole ostili è l'umiltà la chiave di volta della professione del giornalista. Lo sottolinea il Papa nel denso discorso ai membri dell'Associazione Stampa Estere in Italia ricevuti stamani in Vaticano. Il discorso si dipana proprio per spiegare che serve umiltà per rappresentare la complessità della vita reale, con una comunicazione che sappia costruire e non distruggere, che cerchi la verità e non sia contenti delle prime risposte. La libertà di stampa è un indice importante dello stato di salute di un paese, sottolinea ancora il Papa. Serve quindi un'informazione che ricordi le cosiddette guerre dimenticate, le sofferenze di popolazioni come i Rohingya e gli Yazidi e che il Mediterraneo sta diventando un cimitero. Bisogna poi calibrare il linguaggio ricordando che non si può mai togliere la dignità a una persona. In un tempo in cui molti diffondono fake news, l'umiltà ti impedisce di smerciare il cibo avariato della disinformazione e ti invita ad offrire il pane buono della verità. Il giornalista umile è un giornalista libero. Libero dai condizionamenti, libero dai pregiudizi e per questo coraggioso. La libertà richiede coraggio. Centrale poi raccontare il bene anche se il male fa più notizia. Vi prego continuate a raccontare anche quella parte della realtà che grazie a Dio è ancora la più diffusa. La realtà di chi non si arrende all'indifferenza, di chi non fugge davanti all'ingiustizia, ma costruisce con pazienza nel silenzio. C'è un oceano sommerso di bene che merita di essere conosciuto e che dà forza alla nostra speranza.